Il sostituto procuratore della Repubblica dell'Aquila, Roberta D'Avoglio, ha chiesto il processo nei confronti di 29 indagati nell'inchiesta sul crollo di un balcone di un alloggio della palazzina antisismica della New Town di Cese di Preturo, una delle 19 del progetto Case, il mega insediamento realizzato dopo il terremoto del 6 aprile 2009 per dare un tetto a oltre 16.000 aquilani, alloggiati in circa 4.500 appartamenti. Il crollo è avvenuto il 2 settembre 2014, quando un balcone in legno si è staccato dal terzo al secondo piano a causa del materiale scadente e difetti strutturali nelle costruzioni, come accertato dalle perizie dopo un anno di indagini. A seguito delle verifiche, infatti, è emerso che i balconi furono costruiti con legname non idoneo, senza collanti, senza certificazioni, montati con inferriati malmesse e differenti rispetto alle previsioni del progetto. Dai sopralluoghi dei periti e tecnici fu riscontrata assenza di guaine e altri requisiti tecnici, fino a quando una delle terrazze è marcita ed è crollata. E ancora, una fornitura illegale che ha configurato una truffa ai danni dello Stato di ben 18 milioni di euro. L'operazione di sequestro, portata avanti in conseguenza del crollo dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato dell'Aquila, del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale e della sezione di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura, ha portato ad apporre i sigilli su 800 balconi in 494 appartamenti. Le accuse a vario titolo per tecnici e responsabili della costruzione delle New Town, di imprese e del Comune dell'Aquila sono di crollo colposo, truffa in pubbliche forniture e una serie di falsi. Gli indagati originari erano 37, ma il processo è stato richiesto per le 29 persone citate nel decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Romano Gargarella ed eseguito dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, di beni e disponibilità finanziarie per oltre 18 milioni, equivalente al valore dell'appalto vinto da Futura Aquila, società consortile a responsabilità limitata, costituita da tre imprese napoletane per la realizzazione di uno degli insediamenti. 9 milioni di euro quasi di lavori per riqualificare il palazzo del Consiglio regionale alla Villa Comunale dell'Aquila. A 100 giorni dall'inizio dei lavori un tour per valutare lo stato di avanzamento. Una delle chicche del progetto è l'abbattimento come è noto della recensione attuale del complesso con la chiusura di parte di via Michele Iacobucci e la fusione degli spazi attuali con la parte centrale della Villa. Un modo anche per aprire lenti alla città, ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio. Sarà una struttura ricollegata completamente con la città dell'Aquila, quindi attraverso anche la pedonizzazione della strada frontale, la riconnessione del parco della Villa dell'Aquila, quindi diventerà un elemento centrale per la vita non solo pubblica ma anche cittadina di questa città e degli abruzzesi in generale. L'atrio dell'emiciclo cambierà e anche le scale di cemento armato che portavano ai piani superiori scompariranno. La sala Michetti invece diverrà un giardino d'inverno con una copertura trasparente, ha spiegato il Professor Lucio Zazzara, progettista assieme all'ingegner Giacomo Di Marco. Adesso invece si avrà un altro respiro quando si verrà qui, ci saranno le piante, sarà una cosa molto bella perché questa copertura sarà trasparente e quindi sarà un ambiente soprattutto nella cattiva stagione molto piacevole per chi si troverà dentro l'emiciclo. Spazio anche a Biblioteca e Pinacoteca per riorganizzare l'immenso patrimonio librario della Regione Abruzzo di circa 7.000 volumi, come aveva annunciato il Direttore del Consiglio Paolo Costanzi, grazie al lavoro di Rita Centofanti. Di Pancrazio, anche ricordato come l'ex GIL, andrà per l'85% dei suoi spazi al Gran Sasso Science Institute. A realizzare i lavori è un ati di imprese, capeggiata dall'aquilana Rosa Edilizia, con ricci costruzioni e elettroidraulica Silvi. L'ingegner Riccardo Vetturini, coordinatore tecnico dei lavori, ha spiegato invece la strategia dell'isolamento sismico che prevede un intervento importante a livello di fondazione per isolare il fabbricato dal terreno. L'obiettivo ora è sbloccare altri 2 milioni di euro, per il famoso ascensore 500.000 euro, che dal megaparcheggio di Colle Maggio possa portare al centro dell'Aquila in 60 secondi in via dei giardini e per altre opere del Consiglio regionale. Ovviamente tutto è in divenire, ma la struttura del complesso monumentale non andrà toccata. Questa è una certezza. La società L'Aquila Calcio 1927 ha avuto ieri mattina un incontro in comune con il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e gli assessori Emanuele Iorio e Maurizio Capri. Erano presenti per la società Rosso Blu il presidente Corrado Chiodi, il vice Massimo Mancini e lo sponsor Elisa Oiannini. L'oggetto della discussione, in forma a una nota della stessa società, è stato ovviamente la retrocessione della squadra e i possibili scenari futuri legati a questo accadimento. La società ha dichiarato che già dalla prossima Assemblea dei Socii, il 6 giugno prossimo, si lavorerà per una operazione di ricompattamento, ribadendo l'impegno, a portare avanti il progetto sportivo con una dovuta ripienificazione e riorganizzazione quanto mai necessaria. Questo a prescindere dalla categoria nella quale si giocherà attualmente la Serie D, ma con un lavoro che già si sta avviando per presentare la domanda di ripescaggio. Nel corso dell'incontro si è parlato anche della questione stadio di Acqua Santa, i cui lavori sono quasi ultimati. La consegna infatti, tra le altre cose, elemento essenziale per la presentazione della domanda di ripescaggio. La società Rosso Blu dunque auspica che la consegna possa avvenire in tempi rapidi e, in tal senso, ha avuto rassicurazioni dall'assessore Capri. Anche il sindaco Massimo Cialente si è detto determinato a non lasciare solo l'Aquila Calcio ed ha sollecitato tempi brevi e immediatezza per risolvere tutti gli ultimi problemi legati alla questione del campo. Grazie per la visione!